Ciao ragazzi, benvenuti alla trentesima pillola di Inventor. Ok, se l'audio è crescente all'inizio non so cosa farci, non riesco a rifare, è la terza volta che faccio questa pillola, una volta non si sentiva, una volta sembrava un robot, una volta avevo questo microfono, vabbè, non andava benissimo, ho preso questa condensazione che c'hanno alla Rai e ancora, no, non ce l'hanno alla Rai, è un giocattolo, va bene, per carità, ma non è che quello di investire 2.000 euro, un impianto audio per sentirmi, ma almeno sentirsi degnamente come registra un qualsiasi cellulare mi sembrava quantomeno appetibile e accessibile, e invece no, è difficilissimo, non so, spero, spero vivamente che si senta bene questo giro, e non lo so perché all'inizio parte basso, so perché ha condensazioni, si mette di più, è un diesel praticamente, va bene dai ragazzi, allora, ho già disegnato, ah, l'argomento, l'animazione dei vincoli, l'animazione dei vincoli per fare delle brevissime presentazioni, veramente fine a se stessi, non aspettate grandi cose, non è il rendering che potete fare e animare i vincoli con Inventor, ma è semplicemente un'animazione che potete fare qua nell'assieme, per far vedere a un collega come si comporta un assemblaggio, allora, ho già disegnato i miei due pezzi, adesso però vado a cancellare i vincoli che ho creato, giusto per partire da zero, allora, come vedete ho creato un banalissimo perno foro, scusate, un banalissimo anello con questo giocattolo che è il suo perno, andiamo a creare il primo vincolo, perno, perno, ed eccolo qua, come vedete, quello che può fare è questo movimento, i più accorti di voi si saranno accorti sicuramente che, togliamo la visibilità, avevo creato questo piccolo pernetto, lo capiremo dopo perché, perché l'ho creato. Allora, come fare a simulare questo movimento se non con il mouse, è una rotazione di mouse banale? Andiamo sul vincolo che abbiamo creato e no, non è così semplice, creiamo un altro vincolo, questa volta è angolare tra la mia parte e l'altra parte, accoppiatelo, non conta assolutamente l'angolo che mettete qua per l'animazione, lo accoppiate a zero. Ovviamente adesso se lo trascino, come vedete, non si muove. Drive in inglese, mi sembra sia animazioni in italiano o animavincoli in italiano. Ed ecco qua che si apre questa bellissima finestrella. La prima cosa a fare? Premere play, vediamo cosa succede. Beh, lo capite, fa questo movimento qua, parte da zero, l'accoppiamento che abbiamo fatto, e va fino a 10. Senza una pausa, ma la pausa fregatevene. Se qua metto 360, torniamo indietro, ecco che il mio oggetto fa tutta la rotazione di 360 gradi. Già ci potremmo fermare qua, perché veramente non dovete avere molte aspettative da questo, deve essere un'interfaccia semplice per farvi capire magari durante una presentazione rapidamente. Tuttavia, il buon inventor ci fa anche qualche opzione in più, tra cui il passo, cioè ogni quanto fare la variazione, quindi dico mezzo angolo, quello che vi aspettate succeda, beh, sostanzialmente va più lento. Fa tutti i mezzi angoli, lo vedete qua da position, vedete che fa 0,5, 0,5, 0,5 e avanti così. Potete anche usare di più, e potete anche mettere 0,1. Ovviamente va lentissimo questo qua. Ma altra cosa interessante, rimetto a 1 qua e dopo lo capirete perché, è il poter fare lo start and end. End start. Allora, lui parte, fa la sua rotazione, qua ha fatto 180, adesso fa gli altri 180, tung, torna indietro. Lo farà per le volte che ho scritto qua sotto, 5 volte, 5 volte lo fa. Se invece scelgo lo start and end, parte, e voi non ve ne accorgete, ma lui va, parte dall'inizio, arriva alla fine e torna all'inizio. Nella rotazione, in questo tipo di vincolo ad angolare, sembra che continui a rotare. Questo accade qui. Adesso faccio vedere cosa succede invece se uso un accoppiamento legato alla distanza, per esempio. fermiamo questo vincolo qua, e adesso andiamo ad animare questo vincolo. Come vedete qua non c'è più l'angolo, ma è una distanza. Se io faccio partire, vedete che va avanti e indietro. Medesima cosa di prima, start and, vedete cosa fa? In questo caso ha più senso far start and start. E lui parte, e vedete che anima semplicemente il vincolo. Anche qua potete decidere di andare in millimetri, decimi di millimetri, fino a una quantità che ritenete necessaria e prossima. Un'altra cosa divertente, è questa qua, è la collision detection. Che sembra banale, ma non è banale. Perché in questo caso Inventor, che è di potente, ha questa cosa qua, fa una verifica degli ingombri, volumetrici dei vostri oggetti e guardano se si collidono o si compenetrano. Facciamo partire. Errore. E effettivamente ora capite perché avevo creato questo terno. Ora però, qua mi viene che ho l'impatto a un millimetro. Perché secondo voi? Beh, ovviamente, perché se io vado a vedermi quant'è quant'è questa altezza? Non è a un millimetro. Bensì, è 1,58. Perché succede questo? Non è un errore. È semplicemente legato a quello che io metto qua di movimento. Allora, l'abbassiamo un attimo, lo mettiamo vicino. e qua mettiamo un 0,1. Scusate. Ok. Adesso parto da 2 millimetri. Adesso qui dall'errore mi dice 1,5. Ma attenzione. io forzo e lui lo rifà. Andiamo in così. Ok. Allora mettiamo qua il 0,1. È molto lento, ma vedrete che il numero verrà prossimo all'altezza esatta del mio oggetto. 1,587 invece era 5,88 diciamo. Ci siamo. È utile a voi la tua sentenza? Secondo me sì, perché può capitare che fate degli accoppiamenti e non ve ne accorgete ma in determinate situazioni vado a coincidere con altri oggetti, altri corpi. Questa cosa poi non funziona soltanto perché la verifica la faccia sull'altro oggetto qui ci avvincono. No, no, signori. Questa cosa da fare anche se fosse un altro corpi in mezzo. Capite la potenzialità quindi? Eccoci qua. Non c'è nient'altro a dire. No, scusate, dimenticavo una cosa abbastanza fondamentale ma non è in realtà fondamentale perché io la sconsiglio. Potete anche registrarli premendo qua. Allora, dentro di default ai formati AVI e W o quelli di Windows insomma, fanno file abnormi anche di parti piccole fanno veramente file. Qualcosa potete gestire dalla V-Rate riducendoli ma fa file veramente grandi. Potete farli. Io dopo vi consiglio di prendere questi filmati che magari usate nelle presentazioni andate anche online e ci sono dei software online che vi comprimono questi filmati a dimensione altrimenti dovreste avere un software non so di Windows se c'è qualcosa forse che vi permette di ridurre dimensioni in modo veramente importante di questi filmati se volete se volete metterlo su un sito se volete metterlo in YouTube o del genere senza essere maghi dei filmati Bene per questa pillola è tutto No, niente mi sono piaciuto registrarvi c'era qualche parte un modo per registrare una campanella oppure c'è anche il pollice verso o quello è Facebook non mi ricordo vabbè insomma fate quello che sentite di fare Ciao ragazzi